Amarcord Scavolini, 35 anni fa la maxi tavolata Scudetto Movida, musica fino alle 3 ma si abbassano i volumi Caporalato a Fano, Fornaio sfruttava 33 dipendenti Casa Oriceci, consiglio provinciale contro la discarica Arte in vetrina, nuovo progetto per il decoro dei locali sfitti La buona serata a tutti voi pubblico di Rossini TV ritrovati al nostro consueto spazio con l'informazione serale di Rossini News telegiornale delle Canale 80 che in questa edizione di martedì 20 giugno apriamo dedicando la copertina di questo notiziario proprio a quello che accade il 20 giugno di 35 anni fa Correva infatti l'anno 1988 e la Pesaro del basket era davvero inebriata dal primo storico scudetto della Scavolini un grande traguardo storico infiocchettato da una festa con la F maiuscola perché 35 anni fa venne apparecchiata infatti la tavolata da Guinness dei Primati con tutta la città invitata a cena per celebrare il primo tricolore ecco oggi vogliamo proprio aprire con il ricordo di queste immagini 20 giugno 1988 in una cartolina in movimento l'immagine sfocata della Pesaro di un tempo ripresa durante la storica mega tavolata di Viale Trieste sono passati 35 anni esatti da quel giorno quando alcuni chilometri del lungomare pesarese furono occupati dal popolo biancorosso in un cenone stravagante per celebrare il primo storico scudetto della loro Scavolini Pesaro 12.000 persone sedute e almeno altre 10.000 in piedi ristoratori e albergatori avevano lavorato per più di 24 ore per preparare da mangiare il menù scudetto prevedeva antipasto di mare, risotto alla marinara, porchette e ciambellone erano passati 32 giorni da gara 4 contro Milano quando la squadra allenata da bianchini avverrò un sogno atteso 40 anni indelebili le stelle artefici del trionfo 87-88 da Gracis a Cuc, da Dei a Costa, passando per Walter Magnifico è stata la chiusura di una stagione sportiva fantastica con la vittoria dello squadra e questa festa, questa tavolata che poi ha raggiunto il record del Guinness dei Primati come tavolata più lunga del mondo è stata veramente una festa fantastica c'era tutta la città sul lungomare è un'organizzazione perfetta autorità, squadra, giocatori ma soprattutto tutta la gente tutta Pesaro che ha partecipato a quel momento storico che era successo un mesetto prima o poco più della vittoria della gara 4 contro Milano quindi campione d'Italia ed era giusto festeggiarla con tutta la città con tutta la cittadinanza è stato veramente un momento penso uno dei momenti più belli proprio di tutta la città di Pesaro e chiaramente essendo uno dei giocatori di quella fantastica squadra quei momenti lì sono indimenticabili e mi piace sempre ricordarli tra l'altro penso lo sport insegna una cosa bellissima è proprio il rapporto che si crea fra giocatori noi abbiamo la possibilità e il desiderio di sentirci costantemente anche con i ragazzi americani che sono stati con noi ma anche fra noi italiani ecco questa è la parte più bella se posso dire dello sport al di là di vittorie momenti esaltanti naturalmente quel momento lì al fischio finale anche lì l'invasione di campo uno scudetto atteso da tanti anni sforzi fatti dalla società dalla famiglia Scavolini che ha regalato tanti anni di grande basket a Pesaro sono stati veramente momenti emozionanti chiaramente che quando si rivivono così nel ricordo ti fanno rimanere sempre ti lasciano sempre il sorriso ecco come espresso da Magnifico lo scudetto è stato frutto anche del forte legame che si è creato nella squadra a Rio Costa centro di quel roster oltre a ribadire questo concetto ci tiene a sottolineare la differenza che c'è dalla realtà che vive la pallacanestro attuale all'epoca c'era tutto un altro tipo di squadra eravamo tutti italiani più americani che di solito si integravano benissimo con noi e alla fine sembravano anche loro italiani più che americani quindi cosa che oggi non è possibile le regole le squadre sono completamente diverse e quindi ci sono situazioni completamente diverse è imparagonabile far paragonare una squadra di oggi con quella di 30 anni fa e vi ricordiamo che potrete vedere il filmato integrale della maxitavolata Scudetto della Scavolina del 1988 nella nostra prima serata di questo martedì a partire dalle 21 e 40 dalle immagini di Viale Trieste di 35 anni fa passiamo a quelle attuali per un argomento sicuramente molto meno romantico ma di stringente attualità ovvero parliamo del regolamento della Movida nel lungomare infatti uscita una nuova ordinanza che va a mediare alcune frizioni che c'erano tra i gestori dei locali gli alberghi e residenti ecco la nuova regolamentazione prevede che la musica si può si può fare musica fino alle 3 di notte ma andranno abbassati i volumi si mantiene la musica fino alle 3 di notte ma si abbassano i volumi è stata firmata l'ordinanza comunale che corregge il tiro sul precedente regolamento relativo all'ascolto di musica nei locali della Movida del lungomare pesarese un ritocco che cerca di andare incontro ad una complessa mediazione fra gestori dei locali alberghi e residenti dopo le rimostranze per rumori molesti che hanno già accompagnato il primo scorcio d'estate da Via Letresti al Porto e Baia Flaminia da Sottomonte a Fosso Seore fino ai locali sul San Bartolo l'ordinanza consentirà l'ascolto di musica dal vivo e non fino alle 3 di notte anche nei giorni feriali andando nello specifico da domenica a giovedì sarà consentita la musica a 65 decibel fino a mezzanotte una cifra che si abbasserà a 55 decibel nelle 3 ore comprese fra mezzanotte e le 3 il venerdì e il sabato musica più alta a 70 decibel fino a mezzanotte per una cifra che decrescerà di ora in ora fino ai 55 decibel nella fascia compresa fra le 2 e le 3 di notte un'ordinanza reputata equilibrata su più fronti che ora sarà chiamata la prova concreta dei fatti sull'effettivo rispetto o sforamento dei decibel e sui controlli deputati al rispetto dell'ordinanza ed ora passiamo alla cronaca sfruttava 33 dipendenti con paghe minimi orari massacranti e condizioni di lavoro degradanti nei guai un'azienda di panificazione di Fano sfruttava 33 lavoratori pagandoli 4 euro l'ora sottoponendoli anche a turni di 12 ore quotidiane in condizioni degradanti 6 giorni lavorativi su 7 i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di beni nei confronti di un imprenditore residente in provincia ritenuto responsabile del reato di sfruttamento del lavoro aggravato commesso nei confronti di 33 cittadini stranieri diversi dai quali richiedenti asilo politico il provvedimento emesso dal GIP del tribunale di Pesaro trae origine da una attività investigativa avviata dall'estate 2021 indagini che hanno consentito di individuare nella periferia fanese una impresa di panificazione che reclutava stranieri da impiegare come mano d'opera per lavorare in capannone in regime di sfruttamento gli accertamenti condotti attraverso pedinamenti videoriprese controlli ispettivi e acquisizione di testimonianze permettevano di far emergere le condotte delinquenziali dell'indagato il quale aveva posto in essere una condotta di sfruttamento a danno di 33 lavoratori in stato di estrema vulnerabilità e indigenza ai quali veniva negata una retribuzione complessiva per un importo di 552 mila euro oltre metà dei lavoratori in questione è risultata di origine africana ma nell'elenco sono figurati pure tra italiani un moldavo un macedone un cubano e un pakistano proprio reiterando retribuzioni palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali non rispettando nessun regolamento orario e violando pure la normativa in materia di sicurezza sul lavoro l'imprenditore si approfittava così dello stato di bisogno dei lavoratori che si trovavano in condizioni di vulnerabilità condizioni che erano dettate anche dalla necessità di rinnovare il permesso di soggiorno risparmiando sui salari sui contributi e sugli investimenti in termini di sicurezza l'indagato avrebbe così incamerato 750 mila euro dal 2016 questo fino alla settimana scorsa quando l'indagato si è visto presentare il conto dallo stesso GIP il quale accogliendo la richiesta della procura ha disposto il sequestro preventivo sui beni mobili e immobili proprio per un importo di 750 mila euro l'ispettorato del lavoro ha dunque messo in sigilli a proprietà immobiliari conti correnti e veicoli intestati all'indagato e alla società oltre a elevare salatissime maximulte altra cronaca che arriva da Fano dove questa mattina in via Papiria un'automobile è uscita di strada precipitando per una decina di metri nell'alveo in secca delle canale Albani sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per soccorrere e condurre in ospedale il conducente ferito mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l'automobile e la strada stessa il consiglio provinciale prenderà posizione formale sul progetto relativo alla discarica di riceci il presidente della provincia Giuseppe Paolini ha annunciato oggi un ordine del giorno specifico sul tema da discutere nella prossima seduta di giovedì 22 giugno attraverso un documento che esprimerà parere contrario alla realizzazione dell'impianto secondo Paolini il progetto riceci oltre a essere sovradimensionato per le necessità del territorio risulta impattante sotto il profilo ambientale e paesaggistico con conseguenze negative anche per la viabilità sul tavolo del consiglio anche il nodo del chiarimento in merito alla normativa regionale di riferimento sul piano rifiuti il consiglio comunale di pesaro ha approvato ieri uno stanziamento di 325 mila euro di risorse proprie per far fronte alle circa 100 frane disseminate nel territorio dopo la recente ondata di maltempo di maggio in attesa degli indennizi derivati dallo stato di emergenza concesso dal governo il comune decide dunque di intervenire con urgenza per sistemare le situazioni più critiche prima fra tutti la strada completamente collassata di via Molini di Villabetti alla quale verranno destinati ben 183 mila euro e poi la giunta comunale invece ha stanziato oggi 4 milioni e 700 mila euro di risorse straordinarie al fine di una edilizia scolastica sempre più sostenibile e sicura max investimento su un progetto preliminare che riguarderà in totale 20 edifici di cui 16 scuole tra nidi scuole dell'infanzia primarie tre palestre di istituti oltre all'intervento sullo stesso municipio operazioni che spazieranno da cappotti termici sostituzioni di infissi installazioni di pannelli solari e in alcune case anche di sostituzione caldaie in un servizio che vi abbiamo mostrato poco fa vi avevamo parlato del regolamento comunale sull'ascolto della musica nei locali del lungomare ma il comune si sta prodigando anche per il regolamento sul decoro urbano in tal senso ora spunta una originale soluzione per le vetrine sfitte del centro storico iniziamo da via san francesco poi ci saranno anche altre vetrine sfitte che verranno allestite con arte e cultura è un progetto che è iniziato grazie allo sportello partecipazione dove le agenzie immobiliare mentre stavamo lavorando al regolamento del centro storico mi hanno fatto presente di tenere in considerazione la possibilità di esporre tutta l'arte che riguarda la città di Pesaro e anche le nostre tipicità come vedete qua parliamo appunto di Rossini quindi abbiamo preso in carico questo progetto ci abbiamo lavorato abbiamo unito la scuola Mengaroni in questo caso che si è resa subito disponibile e quindi è stata allestita questa prima vetrina in via san francesco è un progetto che mira contro il degrado quindi è anche dare l'opportunità a chi ha la vetrina sfitta di vedere l'interno della vetrina e magari poi qualche imprenditore può essere più interessato anche perché vedere una bella vetrina pulita con tutto un arredo e l'arte potrebbe sicuramente ringrazio tantissimo la signora Montesi la famiglia Montesi che ha dato come primi la disponibilità delle loro attività sfitta e speriamo che con il centro storico ce ne siano altre appunto per abbellire la nostra città e anche il turista poter vedere le tipicità del nostro territorio sarà sicuramente a beneficio di tutti perché comunque la possibilità di poter vedere un locale piuttosto che vedere una cosa coperta e bianca è sicuramente solo di positivo altre vetrine si dovrebbero riuscire a fare ne abbiamo già altre due in progetto una per il corso un privato vorrà già mettere e esporre le sue ceramiche come diceva l'assessore e quindi ci auguriamo che questo progetto porti positività alla città in modo da far vedere i locali non far vedere cose chiuse quindi anche un po' anche all'occhio come dicevo prima può aiutare ovviamente allora la soddisfazione è grande sicuramente grande ed è un orgoglio perché è veramente un grande gesto di fiducia a quello che il comune ha riposto in noi nel chiederci di partecipare al decoro della città in previsione di Pesaro Capitale della Cultura abbiamo dialogato anche con coloro che quindi lavorano nel settore economico commerciale della città coloro che quindi seguono le agenzie immobiliari ci hanno chiesto ci siamo visti ci siamo messi a tavolino abbiamo ragionato su come il liceo artistico Mengarone potesse contribuire per rendere più bella questa città e il punto di osservazione sono state appunto le vetrine sfitte della nostra città del centro in particolare in questa occasione e quindi abbiamo selezionato alcune opere su temi importanti di Pesaro Capitale della Cultura e qui c'è Rossini e le abbiamo utilizzate per un allestimento che consentisse di rendere questa vetrina piacevole quindi vetrine ad arte e quindi essere all'altezza per una vetrina che anche in questo periodo dell'anno fa sfoggio per i turisti ma per i turisti colti che poi verranno anche a vedere le opere di Rossini e sentire dire ma è la vetrina del Rof non mi sembrava vero insomma quando eravamo qui ad allestire e poi insomma ci si prova non abbiamo un corso da vetrinista ma ci si prova noi ci proviamo ma io credo che Gioacchino ne sia felice insomma l'intento comunque è quello di cercare di avviare quanto prima un'attività commerciale allora l'avvicinarsi l'essere curiosi ti consente anche di visionare l'interno visionare l'interno significa anche pensare ad un'ipotesi di progetto lavorativo che è importante perché poi è una ricaduta sui giovani e noi lavoriamo per i giovani la cultura è un capitale e questo il titolo del secondo laboratorio tematico allestito dal partito democratico di pesaro che domani analizzerà una delle linee chiave dell'azione politica dell'ultimo anno e delle 2024 che verrà per quello che riguarda il comune di pesaro mercoledì 21 giugno alle 17.30 ci ritroveremo come partito democratico e come persone interessate a dibattere sul tema culturale nel secondo laboratorio che il partito democratico ha individuato con il titolo direzione pesa al 2024 e affronteremo con l'assessore alla bellezza e vice sindaco Daniele Vimini il percorso di organizzazione di tutti i servizi culturali della città che hanno poi avuto questo riconoscimento importante per la nostra città che comunerà nella capitale 2024 è il secondo passo come dicevo verso pesaro 2024 in cui in questo percorso in questo anno il partito democratico vuole mettere in rilievo i cardini della sua azione politica e amministrativa che hanno connotato questo decennio diciamo sostanzialmente e restando in tema di capitale della cultura oggi si è rafforzato ulteriormente il legame tra pesaro e luoyang all'insegna della cultura del turismo dell'istruzione dello sport del commercio e dei talenti questa mattina infatti il sindaco Ricci ha firmato la lettera d'intenti che legherà pesaro ad una delle principali realtà della via della seta come la cinese luoyang lo scopo è quello di promuovere la conoscenza reciproca tra i cittadini dei due comuni la prosperità e lo sviluppo sinergico tra le due realtà con particolare attenzione allo scambio di buone pratiche la delegazione cinese è stata accolta oggi in municipio anche dal vice sindaco Vimini e dal presidente del consiglio comunale Perugini domani alle 21 in occasione della mostra del nuovo cinema di pesaro in piazza del popolo sarà consegnata la cittadinanza onoraria a Gianfranco Mariotti presidente onorario delle Rossini Opera Festival è storico propulsore nel rendere il Lerrof fra i più importanti festival della scena internazionale Mariotti è nato a Perugia in occasione del 21 giugno giornata della musica che cade a quattro giorni dal suo novantesimo compleanno avrà questo conferimento accompagnato da un concerto eseguito dai talenti delle conservatorio Rossini di Pesaro nuovo appuntamento invece domani per quanto riguarda l'associazione culturale storia e nazione che con inizio alle 21 all'Alexandre Museum Palace Hotel terrà una conferenza dal titolo ipnosi del politicamente corretto nel corso della stessa conferenza il relatore Diego Bianchini presenterà anche la sua ultima pubblicazione eccessi di politicamente corretto anche quest'anno l'Old Subutio Club Marachigiani alla porta di Colombarone organizza il meeting nazionale del gioco del Subutio il 25 giugno nello storico palazzo Rubini Vesin di Gradara la storia di Paolo Francesca ispirerà le geste dei tanti subuteisti provenienti da tutta Italia che si diletteranno a partecipare alle coppie del calcio un torneo in cui 12 squadre composte da due giocatori ciascuna cercheranno di onorare il tema proclamandosi il duo vittorioso della giornata il meeting si terrà a partire dalle 9.30 fino a pomeriggio inoltrato sarà aperto al pubblico e vedrà la presenza di ospiti appartenenti al mondo del Subutio nazionale e internazionale e concludiamo il nostro notiziario con altri eventi quelli che riguardano l'estate di Vallefoglia che sta entrando nel vivo con un calendario di iniziative volte anche a frenare la migrazione dei giovani dal territorio comunale il tentativo è di non far svallare più con tutti i rischi del sonno dell'alcol e così via le nuove generazioni ma farle divertire nella loro terra nella loro vallata nel loro territorio ci sono tre locali anche per che hanno l'autorizzazione per fare pubblici spettacoli e che possono pareggiare il conto con i locali dell'Emilia Romagna che sono aperti come si sa fino all'alba e c'è anche qualche disagio però la comunità si sta via via anno per anno abituando che i giovani ci sono e che i giovani sono una risorsa straordinaria per il futuro anche di questa città nonché del pianeta e che non sono un problema perché se pensiamo che le nuove generazioni siano un problema sono il futuro di questo territorio di questa città e quindi un bel programma oltre 40 iniziative come sempre speriamo insomma anche un bel investimento un bel impegno anche finanziario ma crediamo che valga la pena sono quasi 40 iniziative e con soddisfazione che quest'oggi presentiamo questo programma un programma che si sviluppa sull'intero territorio di Vallefoglia quindi nelle frazioni nel paese più grande quello di Montecchio e nei nostri borghi storici meravigliosi quindi sono iniziative mirate a vario tipo di pubblico insomma da una rassegna di commedia dialettale nella nuova piazza di fronte al comune a molte iniziative mirate ai giovani agli adolescenti di questo territorio cinema all'aperto sono iniziative che riguardano e valorizzano anche ambienti sportivi piuttosto che l'ambiente stesso del nostro territorio quindi passeggiate un wallscape con l'associazione Etra in quello di Sant'Angelo in Lizzola piuttosto che una camminata e una merenda negli olivetti di Talacchio o l'iniziativa con le scuole importante di educazione ambientale quella di Puliamo il mondo ma l'obiettivo di una città fortemente industrializzata come la città di Vallefoglia è quella di intrattenere la comunità ma soprattutto le nuove generazioni attorno ai giochi d'acca della piazza le compagnie dialettali sempre nella piazza del municipio le bande la musica il ballo la danza tutte quelle cose che interessano le persone anche più adulte ma soprattutto per esempio i bambini il cinema è rivolto anche il pomeriggio ma anche di sera e i bambini e le loro famiglie e poi diciamo la valorizzazione dei tre borghi storici attraverso iniziative di jazz di musica per le nuove generazioni come Montefabbri uno dei borghi più belli d'Italia Sant'Angelo in Lizzola col bordo la patria di Giovanni Santi e poi diciamo l'allungare la stagione e integreremo anche questo programma con l'utilizzo nel periodo autunnale ottobre dicembre del nuovo teatro Giovanni Santi a bottega di Vallefoglia 336 posti rivolto anche questo alle nuove generazioni perché sarà un avvitorium per la musica cinema in territorio dove c'erano 10 cinema una volta oggi è cambiato tutto però rimane anche come si vede anche con l'esperienza con l'estate di Vallefoglia il cinema molto apprezzato soprattutto dai bambini e le loro famiglie si conclude qui questa edizione del nostro telegiornale Rossini News prima di salutarci vi ricordiamo come sempre la nostra prima serata che parte alle 21 e 20 col nostro speciale realizzato in occasione della serata inaugurale dello scorso venerdì per quel che riguarda la 59esima mostra internazionale del nuovo cinema di Pesaro che si sta tenendo in città fino al prossimo sabato a seguire ve l'abbiamo anticipato in apertura delle TG oggi sono trascorsi 35 anni dalla maxita volata allestita a Pesaro nel lungomare in occasione del primo scodetto della Scavolini Pesaro 87-88 un traguardo memorabile che rivedremo con un filmato integrale di questa grande festa a partire dalle ore 21 e 40 e poi vi ricordo che l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina in diretta alle 7 e 20 con Buongiorno Rossini la nostra segna stampa di quotidiani locali che per l'occasione sarà condotta dalla nostra direttrice Emanuela Rossi e invece si conclude qui lo spazio informativo serale di Rossini News da parte mia e di tutta la redazione vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi a tutti i nostri programmi e di tutta la redazione e di tutta la redazione